Benvenuti al meteo, ecco le previsioni per venerdì 14 agosto. In Veneto sarà una giornata di tempo variabile, a tratti instabile, con nuvolosità irregolare, in aumento durante le ore centrali quando saranno probabili rovesci e temporali. Temperature stazionarie o in locale diminuzione, minime tra 18 e 24 gradi, massime tra 29 e 35 gradi. In Friuli Venezia Giulia ci sarà un graduale aumento della nuvolosità fino ad avere cieli coperti con deboli piogge in serata. Sui rilievi nubi in aumento con piogge rovesci, temperature minime in aumento con minime previste tra 20 e 24 gradi e massime intorno ai 33 gradi. In Trentino Alto Adige ci saranno molte nubi sin dal mattino con un peggioramento dal pomeriggio e rovesci. Sui rilievi cieli nuvolosi per tutta la giornata con deboli piogge dal pomeriggio. Temperature minime stabili, minime intorno ai 18 gradi, massime tra i 29 e i 32 gradi. È tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.